Dei avvenimenti che io ho immortalato, si diceva così una volta quando si facevano le fotografie, in tutta la mia carriera sicuramente sono le stragi del 92, sia quella del giudice Falcone, di Capaci, sia quella appunto del giudice Borsellino di Via D'Amelio, quindi il 23 maggio e il 19 luglio di quel maledetto 1992. Lì è stato un momento anche per noi di non ritorno, nel senso che ne avevamo già viste tante, morti ammazzati, seconda guerra di mafia che mi sono fatto tutto perché ho documentato tutto quello che di più saliente era successo in questa guerra di mafia che ricordo dagli anni 80 agli anni 90 fece più di mille morti nella sola Palermo, però le stragi furono qualcosa di sconvolgente perché si capiva perfettamente che lo Stato non solo l'opinione, la società civile come così era chiamata che poi è la gente che tutti i giorni va a lavorare e torna a casa dalla famiglia, si è trovata così in difficoltà di avere pensato che lo Stato non esistesse più, nel senso che la mafia ormai aveva preso tanto e sopravvento e poteva fare quello che voleva in barba a tutte le leggi ma anche del vivere civile, non solo del vivere legale, che praticamente sono rimasto anch'io sconvolto da questa cosa, e non tanto per Falcone perché sì l'autostrada è stato terribile, quella voragine, quei morti, quella sorpresa di cui nessuno si poteva mai immaginare, un'autostrada che saltasse in aria, a parte Beirut, a parte i paesi appunto in guerra, nessuno aveva mai visto un attentato simile, ma la cosa peggiore fu Borsellino, primo perché fu a una distanza così breve, passarono solo 57 giorni, che anche se tutti ci aspettavamo che il mirino oramai fosse stato spostato addosso al giudice Borsellino, nessuno immaginava che dopo meno di due mesi anche Borsellino morisse dilaniato appunto da una autobomba in questo caso, e lì in via D'Amelio fu ancora peggio perché lì era veramente, lì era Beirut come l'anno 82, cioè lì era guerra, cioè non c'erano più infissi in tutti questi sei stabili, grandi, alti otto piani, dieci piani, era proprio una scena raccapricciante, una scena di guerra, e lì anch'io che del mestiere avrei dovuto tenere il sangue freddo, attenzione, cosa che ho fatto mentre facevo appunto il mio servizio, però dopo 3-4 giorni, quando oramai la cosa era passata e il grosso quindi del servizio e l'attenzione mia era mirata solo a quello che era il mio dovere, mi sono reso conto e ho detto ma qui se qualcuno, se lo Stato, se gli investigatori, se i politici non si mettono di buzzo buono e si sbracciano, la mafia ci frega, tant'è vero che nel 93 la mafia delle bombe, Totorrina le esportò a Firenze e Giorgofili, a Roma appunto al Verano e a Milano in via Palestro e solo a quel punto lo Stato ha capito che forse era meglio darsi una mossa fino a quando finalmente nel gennaio del 1993 viene arrestato Totorrina e da lì è l'inizio della fine per la mafia stragista che possiamo dire e affermare che al momento non esiste più e speriamo non torni più, attenzione parlo della mafia stragista perché la mafia in sé esiste, si è inabissata, continua a fare i propri e lo schiaffari ma quantomeno ci lascia come dire, non ci fa vivere nel sangue, nel terrore e nell'orrore. Grazie a tutti!